ciao a tutti e bentornati a pillole di storia io sono ikudo e questa è la biblioteca di alessandria con un giorno e qualche ora credo quei tempi di caricamento di ritardo esce questa nuova puntata dell'ucronia la nostra cronia del mondo di orbis che si dipana tra il 475 chiedo scusa e il 1715 quando ripartiamo oggi che racconta un mondo alternativo in cui l'impero romano è sopravvissuto in cui l'impero romano attraverso lunghissime vicende questa settimana mi sono messo a rileggermi la wiki che vi straconsiglio la trovate in descrizione e ho visto avvenimenti di cui francamente non ricordavo quasi più niente neanch'io ebbene questa lunga lunghissima storia ci ha accompagnato fino ad oggi ci ha accompagnato fino alla scorsa puntata quella che ha raccontato gli anni tra il 1710 e il 1715 all'incirca la puntata più corta che avessi mai fatto solamente cinque anni ma anche la puntata di oggi arriverà solamente fino al 1720 una puntata che però ha raccontato una tra le più grandi guerre che il mondo di orbis si sia mai trovata ad affrontare la guerra che come scopriremo oggi potrà chiamarsi alternativamente o la guerra della restaurazione imperi la guerra che potrà portare alla restaurazione dell'impero romano nel mediterraneo oppure alla guerra di successione greca che è anche un bel nome quello come e perché è scopiata questa guerra beh vi consiglio di rivedervi il video scorso questo ovviamente la cosa migliore prima di vedere questo altrimenti vi perdereste tutto lo sviluppo della guerra ma per sintetizzare un pochettino le cause sono principalmente due la prima è una causa dinastica la fine della dinastia che aveva regnato per tanti anni sul regno di grecia porta al potere teodoro lascaris una successione che però ben quanto approvata dal neo comparso parlamento greco è per una successione a cui si oppone molto fermamente invece l'impero romano nella persona di cesare secondo l'imperatore ma soprattutto nella persona di alessia sua moglie imperatrice re ex regina di ungheria perché ormai l'ungheria come pannoni è stata rintegrata all'interno dell'impero come vedete peraltro dalla cartina a fianco a me e che rimarrà qua per tutto il tempo perché voglio farvi vedere bene i movimenti ebbene questo ovviamente è stato c'è stata un'opposizione lo scontro perché lo stesso cesare o meglio la stessa alessia voleva che i due regni si riunissero riformando una forma di impero romano come era stato ai tempo dei cesari e ovviamente questo ha portato una guerra da una parte l'alleanza di tivoli guidata appunto dall'impero romano che comprende il regno di irlanda o come si amano far chiamare loro il vero regno di inghilterra dopo la guerra civile che ha portato alla divisione comprende il il principato di russia o meglio quello che un tempo era era chieve e comprende la bulgaria e la serbia dall'altra parte invece abbiamo un'alleanza potremmo dire anti romana tra tutti quegli stati che temono l'impero temono la sua grandezza qualcuno di voi mi ha chiesto perché così tanti stati si schierano contro l'impero romano in realtà è una cosa abbastanza logica quando uno stato diventa troppo potente facilmente gli altri stati si alleano fra di loro per contrastarlo nel timore di essere fagocitati e un po' se volete quello che successe con l'alleanza anti francese che ci fu proprio nel corso del 1700 quando la francia giunse a un passo da mettere le mani anche sull'impero spagnolo cosa che avrebbe voluto probabilmente dire la formazione di un gigantesco stato francese che sarebbe stato dominante nel mondo contro l'impero si schierano varie nazioni si è schierata la normandia chiedo scusa si è schierata l'inghilterra vera e propria si è schierato il regno di boemia polonia e si è schierato ovviamente perché è quello stato che è stato invaso il regno di grecia c'è poi uno stato ed è qui che arriviamo appunto a 1715 che ad un certo punto di vista è stato un pochettino finora lago della bilancia e cioè stranamente la baviera perché lago della bilancia perché è stato il vulnus la domanda principale a cui mi avete quasi tutti risposto alla fine della scorsa puntata perché la baviera inizialmente stante anche la sua vicinanza era un'alleata imperiale aveva partecipato alle offensive imperiali in boemia in polonia tra 1713 e 1714 ma dopo la ritirata delle truppe imperiali tornate in italia nel 1714 era stata costretta ad accettare grazie anche alla mediazione svedese dato che in svezia dominano i wittesburg che è la stessa famiglia bavarese sono lontani i cugini grazie alla mediazione svedese era stata costretta ad accettare una pace bianca con la boemia ungheria questo però non era stato rispettato dall'impero in particolare per ordine di alessia la quale per cercare di porre fine alla guerra attaccando e spazzando via le forze boemo polacche per poi concentrarsi sulla normandia che è parzialmente invasa ma che grazie anche alle forze inglesi si è difesa finora in buon ordine ha ordinato un attacco a tenaglia con truppe che stanno attaccando in questo momento in ungheria e truppe che avrebbero dovuto attraversare la baviera per entrare in boemia da nord la baviera ovviamente si è opposta anche per mantenere la sua neutralità e la risposta di alessia era stata la decisione di invaderla mettendo sotto assedio la stessa capitale cioè monaco la risposta era stata ovviamente svedese carlo XII re di svezia aveva infatti mandato un durissimo ultimatum all'impero chiedendo che si ritirasse che rispettasse la neutralità bavarese altrimenti sarebbe scesa in guerra qual è stata la risposta di alessia? la risposta di alessia come molti hanno scritto non poteva che essere negativa un'imperatrice, un impero che si erge per diventare un impero universale non può sicuramente piegarsi ai voleri di uno stato così lontano e per quanto consideravano loro arretrato anche se in realtà la svezia è uno degli eserciti seppur piccolo più moderni d'europa la risposta di alessia quindi fu negativa e l'assedio di monaco continuò tanto che nel febbraio del 1516 lo stesso sovrano di monaco Massimiliano II fu costretto a cercare una sortita fuori dalle mura appunto di monaco per cercare aiuto verso nord in realtà grazie a un piccolo gruppo di cavalieri cercherà di intralciare le operazioni imperiali che però proseguiranno nel loro assedio la risposta svedese ovviamente è l'ingresso in guerra ingresso in guerra che alessia aveva già previsto tanto che nel gennaio del 1516 aveva firmato un trattato di alleanza con il Brandeburgo che avrebbe dovuto costituire la terza direttrice di invasione contro la Bohemia Polonia l'obiettivo ovviamente era eliminare un contendente per poi concentrarsi eventualmente sulla Svezia e poi sulla Normandia il tentativo brandeburghese di invasione da nord però viene bloccato dai polacchi con le ultime forze a disposizione ed è un tempo che basta perché Carlo XII che come detto è un esercito molto moderno riesce già nel marzo del 1516 a sbarcare nella Prussia svedese e da qua invadere invece la Prussia brandeburghese come vedete la cartina infatti la zona della Prussia è divisa fra queste due nazioni l'invasione della Prussia brandeburghese obbliga le truppe del Brandeburgo a rientrare per parare ovviamente l'invasione ma è un tentativo fallace perché nell'aprile del 1516 le forze svedesi sconfiggono a Eblang quelle brandeburghesi una vittoria assolutamente strepitosa che apre le strade del Brandeburgo che però continuerà a combattere ancora per parecchio tempo grazie a un buon numero di truppe tenendo impegnate quelle svedesi e ovviamente quello su cui contano anche gli imperiali che intanto continuano l'assedio di Monaco una città che è letteralmente sottoposta a un martirio viene attaccata, danneggiata dai bombardamenti giorno dopo giorno e tutta la popolazione si è arruolata o comunque messa a disposizione per cercare di bloccare l'invasione gli imperiali più volte cercano di scavare dei cunicoli di mina per far saltare le difese, le difese della cittadella da cui appunto i bavaresi si difendono ogni volta vengono fermati passa alla storia l'episodio di un giovane soldato bavarese chiamato Peter Mikken chissà se qualcuno capisce Peter Mikken il quale aveva per fermare un'invasione da parte degli imperiali si era sacrificato facendo saltare un cunicolo in cui ancora stava a causa di una miccia troppo corta e impedendo così l'invasione ma di episodi come questi tutto questo assedio è costellato alla fine però l'assedio non riesce anche perché Carlo XII dopo aver lasciato una parte del proprio esercito a continuare la lotta in Brandeburgo si era invece spostato verso sud e nel maggio del 1516 a fine maggio del 1516 si era riunito in Analt con le poche forze che Massimiliano II di Baviera era riuscito a riunire il 7 giugno 1516 le forze di Carlo XII sono in vista di Monaco e qui affronteranno quelle imperiali quando arrivano nei pressi di Monaco le forze imperiali sono ormai a un passo dall'entrare nella cittadella la seppur difficile occupazione è stata portata avanti grazie al genio militare di Antonio Luigi da Sousa comandante andaluso delle forze imperiali il quale però quando vede arrivare le forze svedesi che scendono verso la città è costretto a levare l'assedio per andare loro incontro in realtà le forze imperiali sono provate da questo lungo assedio anche perché sono state piegate da alcune epidemie il risultato è che lo scontro è assolutamente impari nonostante da Sousa tenti in tutti i modi di impedire alle forze svedesi di rientrare in città la vittoria di Carlo XII è ancora una volta sfolgorante gli imperiali sono sconfitti e costretti a fuggire verso le Alpi da Sousa morirà due giorni dopo a causa di una ferita e il comando dell'esercito sarà preso da Ferdinando Carlo di Gonzaga il quale comanderà i resti dell'esercito nonostante le proteste di alcuni che avrebbero voluto instaurare una difesa già in Baviera a sud al di qua delle Alpi verso l'Italia purtroppo per Roma questa sconfitta arriverà anche sulla Francia perché le forze che stavano assediando la Normandia erano sulla linea della Dardone che cercavano ovviamente di occupare Bordeaux che resisteva anche grazie alla superiorità navale normanna dopo la vittoria contro la flotta imperiale in realtà furono costrette a ritirarsi con il rischio infatti che Carlo XII potesse entrare in Italia a girarle e tagliare via le linee di rifornimento quindi rientrarono verso i domini imperiali in Provenza se il 1516 era stato un anno così orribile però il 1517 inizia in maniera decisamente migliore per l'impero innanzitutto inizia in maniera migliore nelle colonie in Nuova Terra e ne ho parlato nella scorsa puntata qui le forze normanne superiori anche grazie alla lotta che gli imperiali stavano compiendo con i popoli mesoteriani mesonovateriani infatti qui la lotta aveva visto i normanni passare all'attacco avevano occupato la provincia di Segesta la colonia di Segesta quindi la nostra Florida e si erano spinti verso il Mississippi qui però i coloni erano riusciti a fermarli eroe di questa battaglia era stato un ammiraglio proveniente da Liberia Blythe De Lezzo il quale aveva fermato in una battaglia presso Castrum Ruber le forze normale ricacciandoli indietro e ristabilendo il confine sul Mississippi Blythe De Lezzo peraltro nel proprio del combattimento aveva perso una gamba tanto da meritarsi il soprannome di Ligno Cruris cioè gamba di legno non è però l'unica vittoria per il fronte dell'Alleanza di Tivo e la seconda grande vittoria infatti viene corta proprio nel maggio del 1517 le navi normanni come detto negli ultimi anni avevano un po' spadroneggiato nel nord dell'Atlantico dopo aver sconfitto la flotta imperiale ed erano giunte proprio nel maggio del 1517 ad attaccare i porti della provincia lusitana qui però erano stati scoperti, beccati dalla flotta imperiale la quale era stata rinforzata anche con navi provenienti dal Mediterraneo e le forze e le frotta imperiale era riuscita a sconfiggere quella normanna ricacciandola verso nord e sostanzialmente riaprendo gli scontri dell'Atlantico che era tornato ad essere un oceano conteso fra le due flotte l'obiettivo grosso del 1517 però per l'alleanza di Tivoli era un altro dato che le forze svedesi continuavano ad attaccare quelle imperiali con il risultato di costringere le forze del Gonzaga a resistere sulle Alpi per impedire l'invasione dell'Italia anzi Gonzaga più volte aveva affrontato gli svedesi in piccole scaramucce riuscendone a contenere le avanzate anche spesso uscendo nei vincitori dimostrandosi decisamente un comandante migliore del suo predecessore ebbene l'impero aveva deciso di cercare dopo aver tamponato questa falla verso nord di attaccare in un'altra direzione all'epoca infatti il comandante in capo dell'esercito del regno di Grecia cioè Eugenio di Savoia era impegnato in Oriente dopo aver infatti scacciato Kiev dal Caucaso grazie al fatto che le forze del regno di Russia erano costrette o meglio il regno dei Rus erano costrette a nord per impedire agli svedesi profittando della bella stagione di attaccare verso Mosca ebbene Eugenio dopo aver liberato il Caucaso si spinse verso sud per porre fine a quella ribellione in Palestina e in Siria che aveva scatenato a tutti gli effetti la guerra mentre però era impegnato verso sud gli imperieri avevano deciso di attaccare utilizzando quell'esercito che si trovava in Ungheria che rischiava peraltro di essere tagliato fuori qualora gli svedesi avessero sfondato e che venne invece inviato verso sud dove si unì all'esercito serbo per puntare verso Costantinopoli i serbi intanto avevano rioccupato l'Epiro e unendosi proprio alle forze imperiali si diressero verso Costantinopoli un esercito forte di 47.000 uomini contro di loro l'imperatore Teodoro Lascaris che era rimasto a difesa della città poteva schierare solamente un 35.000 uomini peraltro in gran parte da poco arruolati che poco poterono contro le forze imperiali che invece erano composte da veterani della guerra la vittoria aprì le porte verso Costantinopoli mentre Lascaris fu costretto a retrocedere verso la Grecia a cambiare però le carte in tavola fu quando 7 di luglio giunse notizia che approfittando del fatto che parte della flotta imperiale era stata dirottata in Atlantico Eugenio di Savoia era riuscito con una manovra molto molto ardita a rientrare verso la Grecia unendo i suoi 10.000 uomini 10.000 dei suoi uomini alle forze di Teodoro Lascaris nonostante questo le forze greche rimanevano in inferiorità numerica rispetto a quelle serbo imperiali ma il rischio era che potessero trovare nuovi soldati avere nuove leve che giungessero dalla Grecia per riequilibrare la situazione per questo il comandante imperiale Odoardo Farnese che già era pronto ad assediare Costantinopoli decise di rientrare spingersi verso la Grecia per affrontare una volta per tutte i suoi avversari quando i due eserciti giunsero l'uno di fronte all'altro vi era ancora una superiorità imperiale c'erano ancora circa 40.000 uomini di cui 25.000 imperiali e 15.000 serbi mentre dall'altra parte nonostante l'arrivo delle truppe di Eugenio le forze della Scaris non erano più di 30.000 uomini qualcosa però successe la notte prima dello scontro scoppiò un gigantesco incendio nell'accampamento imperiale man mano che le forze romane cercavano di spegnere vennero attaccate dalle forze dei serbi qualcuno forse l'ha dimenticato ma in questo mondo, nel mondo di Orbis il motto del regno di Serbia e da sempre non c'è schiena che non meriti un coltello nelle settimane precedenti infatti Eugenio di Savoia aveva intrattenuto una lunga conversazione epistolare con il regno di Serbia convincendo il sovrano a tradire l'alleanza imperiale in cambio della libertà e i serbi avevano scelto il momento giusto attaccati dai serbi infatti gli imperiali furono circondati dalle forze greche e furono costretti a cercare di fuggire verso nord ma le montagne della Macedonia bloccarono la loro fuga e l'esercito fu quasi ambientato lo stesso Odoardo Farnese catturato si presentò davanti a Teodoro Lascaris e Eugenio di Savoia dicendo ecco a voi giunge l'infelice Farnese la sconfitta sostanzialmente fece crollare il fronte imperiale Kiev di fronte al rischio di essere attaccata essere la prossima preda decise di chiedere la pace e la stessa cosa fece ovviamente la Bulgaria che praticamente non era più in grado di combattere nel settembre del 1517 le forze dell'impero ottomano dichiararono guerra all'impero e invasero la Libia spingendosi verso la Tunisia a questo punto chiunque avrebbe probabilmente chiesto la pace molti dei notabili dicevano proponevano ad Alessia di chiedere la pace è vero l'impero era ancora in piedi era ancora in grado di combattere aveva ancora un forte esercito in Normandia o meglio nella provincia romana aveva ancora l'esercito di Gonzaga che proteggeva l'entrata in Italia ma rischiava di crollare soprattutto non aveva praticamente più possibilità di vincere la guerra ma Alessia ovviamente la pace non la voleva il 1717 è quindi un anno difficilissimo nei Balcani le forze serbo-greche dilagano nella Dalmazia anche se non si spingono verso l'Italia anche perché gli svedesi hanno lentamente allentato la loro presenza e non sembrano essere interessati a invadere ulteriormente l'impero le forze ottomane invece dalla Libia nel aprile-maggio del 1717 si spingono verso la Tunisia dove l'esercito romano è in realtà praticamente inesistente fortunatamente per Roma però ad affrontarle giunge l'esercito del regno alleato vassallo, chiamatelo come volete dei Numidi i quali affrontano le forze ottomane al lago Tritone sulle sponde del lago Tritone vicino alla città di Gabès e in uno scontro un pochettino d'altri tempi perché con poca fanteria poca artiglieria soprattutto tanta cavalleria le sconfiggono e le costringono a rientrare in Libia ma nonostante le richieste di Alessia che aveva voluto un'invasione della Libia l'aricoltura della Libia si rifiutano di entrare adducendo il fatto che nel caso fossero affrontate sconfitte l'intera Africa cadrebbe in mani ottomane questa vittoria però un pochettino ringalluzzisce gli ambienti imperiali che decidono per un'ultima offensiva utilizzare l'armata di Normandia per cercare di attaccare quello che a questo punto è l'anello più debole cioè proprio la Normandia la quale è provata da anni di guerra ha perso peraltro anche una parte del rinforzo delle truppe inglesi perché dopo l'allentamento della pressione imperiale gli inglesi sono rientrati e hanno anzi approfittato per invadere l'Irlanda peraltro con pessimi risultati l'Irlanda si difenderà bene gli inglesi riusciranno a mantenere solo alcune posizioni nell'Alster ma al netto di questo la Normandia sembra essere l'anello assolutamente più debole per questo nel giugno del 1717 l'impero lancia un'ultima grande offensiva con direzione Parigi per far cadere la Normandia l'offensiva però è mal organizzata le truppe si vengono rallentate si fermano ad assediare Auxerre che non cade e vengono alla fine affrontate da un esercito misto svedese Normando la vittoria è ancora una volta degli avversari non sarà una vittoria particolarmente forte in realtà i romani dopo aver visto che non riusciranno a mantenere l'asseio si ritireranno in buon ordine sarà in realtà una vittoria con pochissime perdite ma dimostrerà che l'esercito romano non è più in grado di combattere a questo punto a sollevarsi saranno i generali che diranno espressamente all'imperatore o all'imperatrice che l'esercito non è più in grado di combattere anzi crescono gli ammutinamenti crescono le diserzioni e il rischio è che l'intero fronte possa crollare a questo punto a spingere perché la guerra continui però sono i normanni che ovvio hanno visto questa vittoria sembrano pronti a invadere l'impero e porre fine a quella grande paura che hanno da secoli cioè appunto l'impero romano però ovviamente in un'epoca che ormai sta diventando un'epoca di equilibri diplomatici nessuno vuole distruggere un mostro per crearne un altro e di fronte al rischio che i normanni possano invadere i territori imperiali si schierano in molti innanzitutto i loro alleati gli svedesi che dicono chiaramente che dopo la vittoria di Auxerre la loro parte di guerra è finita e non hanno intenzione di continuare la guerra dall'altra parte si schierano però le province unite che fino a questo momento si erano mantenute autonome ma che dicono chiaramente i normanni che se continueranno la guerra e vorranno invadere l'impero romano loro si schiereranno proprio con l'impero contro i normanni hanno molto denaro molti soldati che possono provenire dalla Longobardia e hanno soprattutto una gigantesca flotta che potrebbe ribaltare la situazione a questo punto i normanni sono costretti a loro stessi accettare la pace la pace che viene sigrata a Costantinopoli nel 1519 è una pace che sostanzialmente sancisce un nuovo equilibrio europeo quel 19 novembre infatti l'Europa che fino a questo momento aveva avuto varie potentati che si erano sostanzialmente spartiti il potere ora invece conosce una nuova situazione perché dalla pace di Costantinopoli del 19 novembre 1719 forse ho detto qualche volta 1500 vi chiedo scusa ma è ovvio che siamo nel 1700 esce un'Europa di equilibri innanzitutto ovviamente a guadagnarne la Grecia l'impero è costretto a rinunciare a ogni diritto sul trono di Grecia rinunciando al fatto che appunto la Grecia possa essere ringlobata nell'impero stesso dall'altra parte Teodoro Lascaris non spinge come qualcuno voleva perché venisse riconosciuto come un impero romano d'Oriente dicendo che il regno è quello che è tanto per tutti basta per quanto molti continuino a farsi chiamare in realtà Romei cioè Romani anche ancora nel 1700 nel regno di Grecia alla Grecia viene inoltre inglobato l'Epiro che era stato strappato dall'ultima guerra ma soprattutto viene inglobato gran parte della Bulgaria che torna ad avere il confine sul Danubio così come era stato fino a pochi decenni prima la Serbia viene premiata con una parte della Dalmazia romana inoltre diventa autonoma e viene ufficialmente elevata al rango di regno inoltre l'impero è costretto a cedere Creta e Cipro all'impero al regno di Grecia e la Libia che torna invece agli Ottomani nonostante le proteste del sultano che avrebbe voluto anche la Tunisia che però ovviamente gli viene negata anche perché non l'ha conquistata la Baviera ed è il grande premio dei Wittesburg diventa autonoma viene elevata a regno un regno di Baviera ingloba alcuni piccoli potentati vicino ma soprattutto ingloba la Nalte che diventa una parte del regno seppur vassalla direttamente del regno di Baviera d'altronde sono comunque tutti parenti questo è diciamo un frutto di una lunga mediazione perché da una parte gli svedesi con Carlo XII avrebbero voluto che le bavaresi diventassero i nuovi sovrani di Longobardia ma la cosa ovviamente non piaceva a nessuno perché il rischio era che Longobardia e Svezia saldassero la loro alleanza diventando una delle alleanze più forti dell'Europa per questo si giunse a questa soluzione di compromesso ovviamente riconoscendo la Baviera come un regno a cui nella Sassonia del Brandeburgo negli altri stati hanno intenzione di legarsi si sancisce la scomparsa del regno di Longobardia gli altri stati sono ormai autonomi il Ducato di Sassonia quello di Brandeburgo e non hanno intenzione di piegarsi ai bavaresi viene ristabilito il norico l'Ungheria torna come era un tempo a far parte del regno di Bohemia Polonia che torna a essere Bohemia Polonia Ungheria la Svezia ottiene in realtà pochi territori alcuni una parte della Prussia brandeburghese alcune piccole correzioni territoriali a Kiev Kiev deve rinunciare a Trebisonda che torna nelle mani del regno di Grecia ma soprattutto deve rilasciare usiamo questo termine molto Europa Universalis 4 il regno di Georgia che aveva occupato pochi anni prima gli inglesi da parte loro invece ottengono pochino avrebbero voluto inglobare l'Irlanda ma le sconfitte il fatto che gli irlandesi fossero riusciti a cacciare gli inglesi dalla loro isola li obbliga ovviamente a rinunciare ma ottengono il fatto che Carlo III che in quel momento è re d'Irlanda sia obbligato a rinunciare a ogni rivendicazione sul trono d'Inghilterra inoltre riottengono tutte le colonie che gli imperiali e l'Irlanda avevano strappato proprio d'Inghilterra con l'eccezione delle azzorre che invece diventano parte del regno di Normandia ho fatto vedere per un attimo il foglio su cui mi sono scritte le cose perché avevo paura di dimenticarvele la Normandia è però il grosso problema ovviamente la Normandia uscita vittoriosa vorrebbe ottenere molto chiede più volte che l'intero territorio compreso tra i Pirenei e le Alpi le venga assegnato oltre a una buona e cospicua parte delle colonie imperiali ma quel territorio non se l'è conquistato di fatti nessuno è d'accordo nel darglielo il risultato sarà l'occupazione dell'Aquitania di ciò che mancava dell'Aquitania di una parte dell'Occitania e della parte più occidentale dell'Albernia non otterrà il tanto desiderato sbocco sul Mediterraneo rimarrà infatti la striscia di territorio in mani imperiali ma otterrà l'uso gratuito del porto di Narbonne peraltro come era già successo molti molti secoli prima non ti deve vedere le scorse puntate dal punto di vista delle colonie invece ottiene quello che ha conquistato la provincia di Segesta quindi sostanzialmente la Florida stabilendo un nuovo confine tra le colonie normanne e quelle imperiali sul fiume Mississippi è una pace che salvaguarda più o meno tutti nessuno è contento nessuno è del tutto scontento ma alla fine si crea appunto un nuovo equilibrio l'impero però ovviamente ne esce fortemente indebolito peraltro grosse lamentele giungono dalle colonie anche perché in questi anni i coloni non solo hanno dovuto combattere per la loro salvezza quasi abbandonati dall'impero impugnati in Europa ma stanno ancora combattendo contro i Trascala gli Aztechi per la salvezza delle colonie in nuova in meso nuova terra e sarà questo un grosso problema nei prossimi anni e qua si chiude la storia della guerra il 1720 è un anno di pace non succede più moltissimo in realtà in questi dieci anni nel mondo è cambiato poco l'unica cosa di cui non vi ho parlato è che come avevo già accennato si è arrivati a un vero e proprio periodo di scontri tra l'impero persiano e l'impero Mughal al confine nella zona del Punjab dell'Afghanistan del Belucistan infatti le due nazioni sono arrivate a confliggere non un grande conflitto armato ma tante piccole scaramucce di confine che però potrebbero o evolvere in uno stato di guerra continuo per i prossimi anni oppure evolvere veramente in una guerra su larga scala ma questo lo dovrete decidere voi credo che dalla pace di Costantinopoli sia nato un mondo diverso l'ho già detto più volte ma lo voglio ribadire un mondo in cui al di là delle differenze delle conquiste territoriali si è creato un nuovo equilibrio è ovvio che l'Europa avrà bisogno di anni per riprendersi da questa lunga guerra ma ciò che potrà venire fuori soprattutto da parte delle nazioni che sono state meno provate dagli scontri come la Svezia l'Inghilterra potrebbero essere dei risultati o le province unite che potrebbero cambiare letteralmente gli equilibri del mondo ma di questo ne parleremo nelle prossime puntate la prossima arriverà fra due settimane continuerò ogni due settimane per quest'estate e poi da settembre riprenderemo ogni settimana scrivetelo perché sono molto molto curioso di vedere cosa mi dite è stata una puntata lunghissima spero di essermi riuscito a spiegare bene spiedo scusa se è uscita così in ritardo ma come immaginate era non facilissima da preparare montare ed essendo così lunga anche da caricare io come al solito vi invito se volete approfondire a rivedervi i video passati trovate in descrizione della lunghissima playlist se volete leggere andate sulla wiki di orbis anche quello c'è in descrizione troverete tutte le informazioni anche molto di più di quello che c'è nei video e per il resto come al solito vi ricordo di scrivere qua sotto come continua la storia perché ovviamente io mi ispiro a quello e soprattutto vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista ormai ha la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso ci vediamo lunedì con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao